Lei è un'ostiopata e ha lavorato con i bambini del progetto Tartaruga. Che cosa può fare l'ostiopatia in questo mondo complesso dei disturbi e lo spettro autistico? Nel corso di questi anni ho valutato molteplici bambini, come ho proiettato oggi, circa 360 bambini. Mi sono reso conto della grande importanza dell'aiuto che l'ostiopatia può offrire a questi bambini nell'ambito dei loro disturbi somatici, cioè di tutto ciò che riguarda la sofferenza del corpo. Perché in realtà l'elemento che ancora non è stato preso in considerazione è quanto possa incidere nella storia del bambino la sofferenza del corpo. Quindi parliamo dal dolore fisico a un disturbo viscerale prolungato in modo cronico oppure in modo acuto. E che peso possa avere questo disturbo all'interno di una valutazione complessiva e di un disturbo così complesso come può essere l'autismo. Quindi in quest'ottica l'ostiopatia si pone come una metodologia e come una terapia che possa consentire al bambino di togliere, di scorporare dal suo corpo tutti questi fenomeni, tutte queste sintomatologie di tipo somatico e così renderlo anche disponibile e più disponibile ad affrontare un percorso terapeutico. La senatrice De Biasi ha detto c'è scientificità nell'ostiopatia. Che cosa possiamo aggiungere? Beh ringrazio la senatrice De Biasi per le sue parole, sono molto incoraggianti per noi osteopati e non posso fare altro che darle atto. In Italia si fa grandissima ricerca in osteopatia e gran parte delle ricerche pubblicate sulle maggiori testate internazionali vengono anche dagli italiani. E questo a fronte di lavori che si fanno in continuazione. La scientificità viene direttamente da Stil, dall'ideatore dell'osteopatia il quale parlò di un concetto di salute e di territorio all'interno del quale si potesse manifestare la salute. Questo territorio noi lo possiamo generare quando l'informazione neurosensoriale è libera quando l'apporto sanguigno è libero quando il drenaggio venoso è libero. Dunque questo è un enorme carattere di scientificità.